Siamo con Andrea De Priamo, senatore Fratelli d'Italia, membro della Commissione Ambiente. Oggi ha promosso qui in Senato un'iniziativa per celebrare la giornata mondiale del riciclo. Riciclo dove noi siamo un'eccellenza, però possiamo fare di più, no? Assolutamente, ci sembrava doveroso dare attenzione a questa giornata perché il riciclo è una parte essenziale dell'economia circolare e quindi del lavoro che dobbiamo fare per tutelare l'ambiente a livello nazionale ma anche a livello globale. L'Italia è un'eccellenza in questo settore, molti non lo sanno, lo abbiamo detto in questi giorni, in questi mesi anche in Europa dove c'è un regolamento che rischiava di vanificare questa eccellenza, confondendo diversi aspetti di quella che è l'economia circolare che devono stare tutti insieme, non in competizione, quindi riciclo, riduzione, riuso dei cosiddetti rifiuti che con il riciclo prendono di nuovo vita, non si disperdono nell'ambiente, non generano inquinamento e quindi è davvero un fattore virtuoso al quale concorrono imprese, istituzioni e cittadini.